Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo in uno dei giochi forse più promettenti di questo 2022. Siamo su Far Test Frontier, un gioco che è uscito su Steam da poco tempo perché è uscito ad agosto, in piena estate. Costa 28,99€ e già in italiano ed è in Early Access. In Early Access ci resterà probabilmente tra gli 8 e i 12 mesi, quindi quasi un anno. Alcuni ne sono già passati, altri tempi arriveranno. Siamo alla versione 0.7.6 e a breve arriverà la 0.8 che dovrebbe essere uno dei più grossi aggiornamenti. Io sicuramente non voglio insegnarvi a giocare ma vi voglio far vedere quello che mi ha colpito di questo titolo. Ovviamente io adesso carico la mia partita, ammesso c'è stato un aggiornamento quindi vediamo se effettivamente mi riconoscerà. Poi quando vedrete probabilmente il video magari sarà già uscita la 0.8.0 quindi sarà più complicato, insomma sarà un pochino diverso da quello che vedremo ora. Comunque proviamo e vediamo che cosa succede. Ed eccoci qua. Pensate, una delle parti più interessanti di questo titolo ovviamente stiamo parlando di uno strategico, di un gestionale più di uno strategico la parte più interessante di questo titolo, adesso metto in pausa è il fatto che intorno a voi l'ambiente cambia. Ovviamente sarebbe facile dire, certo cambia, viene la neve, si è già visto in tanti altri giochi la cosa che invece più mi piace e che voglio dirvi è il cambiamento dall'aspetto selvaggio di questa radura all'aspetto più urbano nel senso che quando noi andremo a creare i nostri campi come vedete in questo caso questo campo qui ci stanno lavorando da un po' di tempo e quando lo avranno finito diventerà un campo a tutti gli effetti quindi cambierà totalmente come lo vediamo e stessa cosa tutto il resto quindi sarà molto bello da vedere andando avanti come si evolverà l'ambiente potremmo costruire delle mura, potremmo costruire tantissimi edifici e la città è basata sul differenziare le varie professioni sul fatto che avremo poi le malattie che arriveranno l'assalto dei predoni, l'assalto addirittura degli animali esterni quindi questa è veramente una cosa bellissima qua in alto vediamo gli abitanti malati qua vabbè c'è come sta andando la nostra produzione di cibo stiamo producendo bene divisi per proteine, cereali, ortaggi, frutta, latticini i latticini durano di più rispetto agli altri e quindi si conservano meglio qua vedete che sta procedendo a gonfie vele a proseguire dell'anno e diventerà a breve autunno qua vediamo le nostre risorse, i tronchi, la linea da addre che ovviamente dovremo accumulare in previsione dell'inverno le assi di legno, la pietra, l'argilla, il mattone e l'oro ma poi queste risorse aumenteranno anche in base a quello che andremo a produrre qua abbiamo le scorte di cibo divise per le varie proteine i cereali, gli ortaggi, vedete quanti ne abbiamo qua ci dice quanto lavoro resta da fare perché alcuni edifici richiedono sicuramente del materiale altri richiedono semplicemente la forza lavoro quindi vedete che in questo caso ci stiamo lavorando con queste persone, questi villici qui potete cliccare e muoverli voi stessi quindi potrete amministrare a livello di gioco strategico le vostre risorse ora dovremo farli lavorare vedete che possiamo aumentare e diminuire i lavoratori assegnati ma andiamo a vedere qua sotto vedete qua abbiamo il centraggio della visuale le professioni degli abitanti quindi in base agli edifici che andremo a costruire potremmo assegnare più o meno abitanti alle varie professioni al momento abbiamo lo spacchialegna e il taglialegna cioè il taglialegna taglia gli alberi dalla foresta lo spacchialegna crea legna da ardere poi possiamo vedere adesso metto magari in pausa un attimo il gioco abbiamo i campi di lavoro il carbonario, il fonditore, il mattonario, il minatore, il muniaio mentre nei servizi abbiamo la calapiatopi l'addetto al votatorio il carario, il guaritore, l'insegnante, il mercante, la oste nel cibo abbiamo l'affumicatore quindi per migliorare la conservazione dei nostri cibi il cacciatore, il casaro, quello che fa il formaggio il conserviere, il contadino, il droghiere, il mandriano il panettiere, il pescatore, il raccoglitore il silvicoltore o lo speziale a livello di esercito in questo momento abbiamo niente ci saranno le guardie, i soldati e per quanto riguarda le merci lavorate a mano scusatemi ma ho ancora i postumi della malattia la maiolo, il birraio, il bottario, il calzolaio il candelaio, il bottario sarà utile magari per immagazzinare la birra e tutto il resto che verrà prodotto a livello di liquido il candelaio, il cestario, il conciatore, il fabbro, il frecciaio il mobiliere, il saponario, il tessitore, il vasario, il vetraio queste sono e quanti invece ne dedichiamo a livelli di braccianti di ancora liberi e di edile quindi la costruzione in questo caso vedete i contadini è il massimo che abbiamo ma il centro del villaggio che è questo è diviso in tier si vedono, ha fatto minire con anche dei video dove lui va avanti e arriva al tier 4 calcolate che il gioco di nerdy access è uscito da pochi mesi ma vanta, già la lingua italiana è tradotta bene ma se poi c'è qualcuno di voi magari che l'ha tradotto me lo faccia sapere possiamo migliorare producendo assi di legno, pietre avere una popolazione di 30, al momento siamo 12 gli edifici dovevano fare il mercato e gli alloggi farne 8 ne abbiamo attualmente 3 sto andando pian piano perché voglio vedere effettivamente la costruzione e soprattutto per tanti abitanti è poco cibo, è poco saggio in questo caso andiamo a vedere proprio gli edifici che ho io ho qui il capanno di caccia quindi il mio cacciatore attualmente sta macellando la carne è Garalt di Rivie magari lui caccia in questa zona vedete che è evidente niente di nuovo, assolutamente niente di nuovo qua intanto il lavoro sta andando avanti abbiamo, vabbè, certo il cittadino con i bisogni primari ma al momento siamo messi anche abbastanza bene per i pochi cittadini che abbiamo qua abbiamo le 3 case che abbiamo visto 3 alloggi ho fatto qui il fiume dove ci lavorano una persona mi pare e lui mette le trappole qui ci sono le zone di pesca e quindi ho costruito anche una strada la strada viene fatta manualmente cioè niente viene costruito istantaneamente quindi questa è una cosa molto bella e qua abbiamo lo spaccalegna e qua la segheria quindi produzione di assi e produzione di legna da ardere possiamo andare a vedere il deposito che abbiamo, i dettagli e andare anche a disattivare l'edificio qualora avessimo l'esigenza di produrre solo legna magari da ardere quindi meno assi qua invece abbiamo il carbone che poi andremo abbiamo una resa di 5739 qua abbiamo il biancospino abbiamo un sacco di erbe che dovremo andare a raccogliere vi faccio vedere qua sotto invece continuiamo con l'esamina l'esamina della grafica le risorse in deposito tutto quello che possediamo attualmente gli attrezzi sono molto importanti anche le armi perché dovremo pensare a tutto anche ad equipaggiare le nostre truppe e i nostri villici il menu della costruzione è interessante perché è diviso in categorie e si sbloccano man mano quindi potremmo fare un cimitero andare a piazzarlo al momento non ce l'abbiamo abbiamo solo 12 abitanti e il problema arriverà nel momento in cui non avremo più spazio quindi magari un cimitero lo possiamo mettere adesso non mi ricordo se l'ho già messo perché è una partita un po' vecchia possiamo aumentare nella dimensione io adesso faccio questo sotto la dimensione minima vediamo ok e qua abbiamo tutto cimitero e inizieranno a lavorarci a breve vi faccio vedere anche gli alloggi al momento abbiamo solo gli alloggi e le case di tier 2 potremmo fare l'alloggio temporaneo abbiamo i depositi quindi divisi per zona di deposito il magazzino e la cantina per conservare in questo caso i liquidi, i vini, le birre qua abbiamo le produzioni di cibo divise per capanno di caccia capanno di raccolta capanno di pesca il campo coltivato e l'affumicatorio col campo da coltivare potremmo ecco vedete quanto è cambiato guardate quanto è cambiato prima era una cozzale di streppaglie ora ci hanno messo una vita e a farlo perché se ormai sta arrivando l'autunno vedete che stanno già cambiando i colori delle foglie qua possiamo andare ad aggiungere le colture andando a calcolare esattamente il periodo in cui ci troviamo e vedere la loro tolleranza quindi in pratica dovessimo fare la rapa tollererà il gelo ne possiamo mettere in questo terreno il gelo quindi è più invernale come cosa vedete anche il tempo di durata non possiamo metterlo più avanti non possiamo pianificarlo più avanti no vediamo un attimo qua si può mettere vedete anche tolleranza al calore qua c'è anche il grano non possiamo oddio e qua andiamo a creare ciclicamente il nostro orticello quindi qua possiamo produrre vabbè ho messo il lino ma lo potremmo anche togliere non ho eliminato il campo che bambù che sono mamma mia ragazzi vabbè in pratica io posso andare a ripiazzarlo voglio vedere adesso con voi se effettivamente vedete qua piazziamo l'orto ok me lo me lo me lo andranno a ripiazzare di nuovo adesso non voglio vedete che dovranno rilavorarci di nuovo questo è un grande sbaglio che ho fatto perché ho premuto esca per cancellare ma vabbè adesso poi ricaricheremo la partita potete vedere andando avanti che abbiamo anche le risorse quindi il pozzo lo spaccalegna la segheria abbiamo la conceria la bottega del calzolaio la concimaia la bottega del cestaio abbiamo la bottega del frecciaio e tutte le altre che poi si sbloccano andando avanti di tira molto bella la difesa perché potremmo al grado 2 costruire una caserma e costruire la torre di avvistamento e le mura e le strade quindi poter andare a mettere poi andremo sulla palizzata andremo sul cancello della palizzata e il muro fortificato perché poi ci saranno anche gli attacchi quindi in questo caso io posso iniziare a fare a dare un aspetto medioevale alla mia alla mia città costruendo questa cosa adesso io qui ho fatto una cavolata posso farlo da un'altra parte a sto punto l'orto peccato perché l'ho buttato via anzi ma ricarichiamo la partita e vi faccio vedere ok ho ricaricato la partita adesso la acceleriamo un pochino in modo da vedere rapidamente la fine intanto continuiamo con l'esamina perché ovviamente questo non è un gameplay vi sto presentando come cambia il gioco menu di costruzione allora eravamo sulle decorazioni abbiamo la betulla potremmo impiantare l'acero ci serve dell'oro in questo caso poi col mercato potremmo andare a depositare oro dalle nostre riserve dedicando oro al mercato per i commerci per gli scambi in città qua abbiamo la possibilità di scegliere che cosa raccogliere alberi pietre e così via togliere la spunta quindi bloccare la raccolta di una determinata risorsa e abbiamo la gestione delle mura quindi possiamo gestire le mura e le strade quindi andare a piazzare strade nuove quindi possiamo fare una viuzza di qui e loro andranno fisicamente a costruirla vedete che adesso è in penombra risulta in costruzione la andremo a costruire cioè i cittadini andranno e quello che viene richiesto è semplicemente forza lavoro quindi avremo dei cittadini impegnati lì ovviamente è tutto molto molto diciamo accurato nella cioè bisogna essere molto precisi in quello che si fa in questo gioco possiamo spianare addirittura il terreno quindi creare questo campo adesso lo stiamo ricompletando di nuovo ma potremmo andare a spianarlo dopo per facilitare magari la costruzione in alcune aree la mappa era bella grande da esplorare alla fine e ho scelto poi di costruire qui perché avevo un laghetto vicino la cosa ecco ripeto che dà più soddisfazione in questo gioco è il cambiamento dell'ambiente guardate quanto è brutto questo aspetto vedete adesso il campo è cambiato notevolmente possiamo vedere i fattori di resa che non vi avevo fatto vedere prima possiamo aggiungere sabbia aggiungere argilla per andare a cambiare la resa del terreno ovviamente questo ci chiederà delle risorse che probabilmente adesso non abbiamo neanche perché l'argilla non l'abbiamo possiamo aggiungere una coltura possiamo coltivare i fagioli che non tollerano il freddo infatti vedete qua ci viene segnalato se voglio togliere le piante io posso mettere questo posso mettere la rapa che resiste bene sì la rapa la mettevo qua e poi posso piantare anche questi che non ho posso aggiungere altre colture di qua posso aggiungere il grano e posso aggiungere anche questa che resiste tutte le stagioni quindi qui possiamo fare solo questo tutto l'anno qua diventa troppo gelato per coltivare insomma però qua inizia a fare freddo quindi sarà bello poi pianificare bene il ripiantaggio di tutte le colture in modo da essere pronti che schifo che brutto che è diventato sto campo sto accelerando il tempo veramente tanto adesso è giusto per farvi farvi vedere qua abbiamo imposto il punto d'esplorazione possiamo andare ad esplorare fuori dall'area della mappa tipo qui e i nostri cittadini andranno ad esplorare lì e scopriremo nuove zone ovviamente sarà molto importante pianificare bene adesso io metto un menu di costruzione faccio gli alloggi faccio un'altra casetta vedete la posso piazzare non dove voglio perché il terreno è impervio e soprattutto qua c'è la zona mineraria quindi posso piazzare la casa qui aspettate che gli alloggi li vorrei piazzare lì allora possiamo piazzarla qui loro butteranno giù l'albero e costruiranno la casetta lì adesso io accelero il tempo per farvi vedere ovviamente non so ancora se mi sono diciamo preparato bene per l'inverno però non so speriamo basti questa linea d'ardere comunque intanto qui c'è il caro di deposito perché non ho ancora un deposito quindi qua possiamo andare a scegliere anche che cosa immagazzinare in ogni magazzino ecco stanno costruendo la casa vedete che chiede materiali materiali li hanno già portati e abbiamo la nostra capanna la capanna che poi potrà rispettando i requisiti per la miglioria diventare migliore abbiamo due nuovi nati e due nuovi immigrati quindi da 12 siamo passati due nuovi immigrati e due nati gli abitanti festeggiano la nascita dei nuovi bambini che sono in questa casa qui i nuovi immigrati invece sono arrivati lì e stanno già lavorando per la costruzione del il taglio delle 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 piante qua vedete che la strada intanto è stata costruita avevo piazzato prima di dover ricaricare prima il cimitero vediamo se possiamo piazzarlo vediamo lo mettiamo qui facciamo grande così acceleriamo il tempo il tempo è già accelerato vedete che si sta costruendo cioè sta nevicando quindi siamo passati nel periodo più duro della dell'anno perché le culture sono completamente bloccate perché stiamo giocando ad cazzo ma questa è la felicità ma è giusto per farvi vedere come l'ambiente cambia infatti se poi andrete a vedere altri gameplay di gente che lo sta giocando a livello di serie o livello comunque di gameplay più che di presentazione vedrete delle città bellissime tutte inglobate dentro le mura e questo gioco è più bello secondo me di tanti altri che sono primo tanti hanno la costruzione immediata degli edifici ma tanti altri hanno tutto molto schematico invece qui l'ambiente cambia la vegetazione è andata completamente perché siamo in inverno ormai inverno inoltrato ovviamente accelerando a tre passa rapidamente la le stagioni passano piuttosto rapidamente qua è uno spreco assoluto perché vabbè non si può seppellire nessuno l'inverno almeno immagino è abbastanza dura cioè non scavate nel terreno per le colture non lo fate neanche per però il problema può arrivare da un momento all'altro può esserci un predatore un assalto di banditi può esserci un'improvvisa carestia può esserci un'improvvisa epidemia di qualcosa quindi con abitanti malati che hanno bisogno di cure il medico magari non lo abbiamo ancora il cereusico insomma si usa definire e quindi diventa complicato poi ecco adesso stiamo andando verso la fine dell'inverno è ricresciuta ovviamente qua ripeto è velocità elevatissima adesso di gioco però vedete che qua iniziamo ad avere il cimitero abbiamo 96 posti e la cosa bella che non è un edificio predefinito ma lo abbiamo deciso noi come dimensione quindi possiamo fare tutto tutto a misura del villaggio che stiamo costruendo quindi qui abbiamo anche le mura quindi posso iniziare a fare un muro di pietre e iniziare a delineare i contorni del mio villaggio quindi posso tirare le mura qui e vedere come vengono una volta che ricostruisco magari così vediamo come ricostruiscono e soprattutto che risorse servono adesso io non ho guardato l'ho fatto a caso mi chiede uno di pietra pietra ne abbiamo poca bisognerà fare la miniera di carbone che non abbiamo bottega del frecciaio calzolario bisogna arrivare al tier 2 immagino perché qua c'è il campo di lavoro miniera ok bisogna arrivare al tier 2 il tier 2 dovrebbe essere relativamente semplice dobbiamo avere 8 case dobbiamo avere il mercato dobbiamo avere 30 persone e 50 assi di legno e 25 di pietra vabbè intanto vedete che stanno già iniziando però è un muretto assolutamente insignificante questo che hanno che hanno costruito quindi adesso stanno abbattendo l'albero e pian piano avremo le nostre prime mura muretto che adesso cliccando qua ci fa vedere il muro di pietra che possiamo andare a spostare segnalare di combattimento no è giusto per gli animali quindi ho fatto una gran cavolata in realtà però pazienza è giusto per la cronaca dobbiamo costruire 8 case però vedete anche il fatto delle strade che vengono costruite in questo modo è molto bello perché segue l'andatura dell'ambiente quindi non è tutto quadrato cioè comunque potete fare vari tipi di costruzione la strada adesso la possiamo fare vedete come cambia la strada cambia tanto possiamo farla della forma che preferiamo perché cliccando ci va a creare delle varie strade questo ricorda per certi versi anche city skyline vedete questa strada qui che va verso questa zona qua avevamo mandato qualcuno in esplorazione ma sì è stato esplorato e vedete che abbiamo dei nidi di uccello quindi qui possiamo avere delle uova e qua è un'altra zona dove poter andare a costruire il gioco costa 28 euro calcolate che resterà in early access ancora io presumo un annetto almeno il 2023 ma miracolosamente rispetto a tanti altri è già in italiano italiano tradotto bene c'è una grande patch in arrivo e non so quando vedrete il video perché ho una pianificazione molto serrata quindi sarà dura diciamo trovare il momento giusto dove pubblicarlo però calcolando tutti questi fattori se amate un city builder un po' alla banished questo fa sicuramente per voi e lo ritengo superiore a tanti altri che ho provato l'aria sera rifatta periodi di caldo si poi non va mai giocato a questa velocità essendo un gioco molto molto diciamo punitivo vedete intanto anche andare a ingrandire per dire a livello economico io vi potrei consigliare anno 1800 è molto schematico anche lui però graficamente carino ma come dà la sensazione proprio di ambiente stile un po' medievale come questo vedete adesso è tutta una serie di strepaglie ecco lo ripeto per l'ultima volta qua in alto magari ci possiamo fare qualcos'altro una strada insomma una città sopraelevata non ve lo dà nessuno assolutamente e qua si può costruire la fanno la strada che va su però potremmo anche a nostra volta andare a decidere di spianare il terreno quindi livellare il terreno spianarlo tipo qui andare a spianarlo e vedete che sono 350 c'è un tempo immenso anche rispetto a quello che ci abbiamo messo a spianare questo campo ovviamente adesso il gioco mi sta già punendo perché mi sta dicendo soffriranno la fame se non ci pensi e in effetti l'ho abbastanza trascurato ragazzi questo era Far Test Frontier ve lo volevo presentare giusto per darvi i miei parieri cioè quegli aspetti che mi sono sempre piaciuti di questo gioco poi mi ci dedicherò magari tra un gioco e l'altro però senz'altro è un gioco che merita merita molto moltissimo ed è uno dei giochi gestionali manageriali insomma strategici anche perché come ho detto potete andare a muovere le pedine le pedine le chiamo gli omini e non in tutti i giochi lo si può fare quindi insomma è molto carino vedete anche le persone come sono vestite la loro alimentazione la felicità che cosa è dovuta alla loro felicità o infelicità la loro salute il loro carico se stanno trasportando qualcosa lo possiamo vedere il suo alloggio l'alloggio con chi vive e lui vive con questa signora qui che ha 36 anni ed è la taglialegna lui tagliarsi di legno lei tagliarsi di legno lei costruisce e Varga e Coelai non può lavorare perché non lo so perché non può lavorare ha 19 anni non so perché non possa lavorare non ha istruzione non ha nessun disturbo ha molto caldo siamo in ondata di caldo anomala quindi ci sta insomma questo è questo è a grandi linee quello che il gioco ha da offrire migliori automatiche sì l'ho selezionato quindi gli edifici migliorano quando possono in realtà potrei andare anche a disattivarlo qua un riassunto come vi ho detto della città le professioni le risorse in deposito il deperimento del cibo bisogna calcolare anche quello e la felicità divisa in base a cosa c'è e cosa non c'è nel nostro villaggio fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao 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 Grazie.